In Metal Gear Solid 4 il nostro Old Snake è riuscito a eliminare l'ultima B&B, la bella e la bestia. Scramming Mantis è stata fatta fuori e l'abbiamo uccisa ed eliminata. Guardate quanti coltelli ha perso e poi avete visto quante braccia che ha. Ha tutte le braccia dei Gekko di Wars, ma a vedere tutte le braccia così mi fa ricordare Mistral di Rising. Ma ora stiamo a vedere cosa sta succedendo. Voglio vedere se muore per davvero. E vediamo se l'abbiamo tolta di mezzo. Si sta staccando tutto però. Vanno via queste braccia dei Gekko Nani. Sta girando come un tornado. E poi mi sembra di vedere la faccia di una donna. Scramming Beauty. Ammazza ma quei coltelli erano pericolosi. Eccola lì Scramming Beauty. Snake deve stare molto attento e deve fare molta attenzione. Vediamo se si fa fuori l'ultima B&B. L'ultima Beauty va uccisa per forza. Eccola. Sta arrivando Scramming Beauty. Ma si sente anche lo spavento, l'urlo, la paura. Non riesce a malapena a mettersi in piedi e anche a muoversi. Si mette in piedi. Però ha fatto fatica a mettersi in piedi e a muoversi. Si e fa anche dei salti. Ma deve saltare però. E poi casca a terra. Si sente il suo battito del cuore. Non dice niente. Non dice la sua parola. Ora riesce a dire la sua parola e ha detto qualcosa. Riesce a parlare. Dice le grida. Le sente dentro la sua testa. Va bene, te le faccio smettere. Non vuole sentirle più. Ha paura. Tanta paura. Gli duele la testa. E' visto che dolore. Ti dispiace. Va bene, ti faccio uscire da qui. Non riesci a respirare. Sei così agitata però. Non ti riesci a darti una calmata. Sei così nervosa. Per questo hai troppa paura. Hai troppa fifa. Cosa vuoi dirci? Cosa c'è adesso? Fuori dal tuo corpo. E ti devo perdonare. Ma neanche per idea. Va bene, ti libero. Ragazzi, io vi saluto. Ricordatevi di iscrivervi nel mio canale. Poi lasciate sempre tutti i giorni i vostri commenti. Però voglio che lo fate subito all'istante. Visto che siamo all'outer heaven, alla sala di comando. Promettetemi di fare fuori Scramming Beauty. Nella prossima video recensione vi dirò come farla fuori ed eliminarla. Così l'ultima B&B se ne andrà. Per sempre. Ricordatevi. Per sempre. Ricordatevi.